Sì, per esempio, uno dei temi che vogliamo affrontare quest'oggi, in questa seconda giornata di questa quinta edizione del Festival del Futuro, è il tema della longevità che affidiamo innanzitutto alle mani del direttore del Giornale di Vicenza, Marino Smiderle. Buongiorno, Marino. Buongiorno, Marino, la grazie. Buongiorno. Buongiorno, che ho provato il direttore. Dicevamo, la longevità per tanto tempo, tanto tempo è stata vista come un bene quasi utopistico, adesso che è, non dico un'acquisizione, ma comunque diciamo che la longevità è un concetto un po' più pieno di sostanza rispetto a un secolo o due fa, ci si domanda però, relativamente al lavoro, quali possono essere i lati positivi e quali i lati negativi della medaglia. Ma intanto teniamoci alla longevità, ma che comunque è un dato positivo. Si tratta soltanto, secondo me, di impiegarla bene e di riuscire a sfruttare quelle che sono le potenzialità. È una fortuna, l'abbiamo ottenuta con progresso, l'abbiamo studiato, ce l'abbiamo, e sinceramente io porto a casa i dati positivi. Con gli ospiti di oggi parleremo invece come cercare di trassumare quelli che sono comunque dei problemi, perché è chiaro una società nostra molto più anziana e invecchiando per dire alla mia pensione rischio di non vedere che non ce la paghi nessuno se non ci sono dei giovani. Quindi il fatto che ci siano più anziani rispetto ai giovani porta dei problemi. Però vedremo di trasformarla comunque in un'opportunità. Io credo che dalla giornata di oggi dovremo trovare delle soluzioni, delle proposte per sfruttare questa positiva longevità e di renderla, come dire, redditizie. E noi ascolteremo con molto interesse, anche perché siamo oltre una certa età, quindi ci interessa. Stavo pensando, abbiamo una certa, quindi... Così, una certa. Quindi io direi che introduciamo gli ospiti e le ospiti di questo panel e quindi invito a raggiungermi sul palco Giuliana Coccia, che si occupa di Statistica per Asbis, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Buonasera. Buonasera, ben arrivata. La preghiamo di accomodarsi. Invito anche Odile Robotti, amministratore unico di Learning Age. Buonasera anche a lei, ben arrivata. Alessandro Rosina, docente ordinario di Demografia e Statistica Sociale all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto anche a lei. E la introduco. Sta per arrivare, quindi la vedrete comparire sul palco tra poco. Luigina Mortari, professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale dell'Università e gli Studi di Verona. A voi. A voi. Grazie, grazie Paola. Allora, parlavamo di longevità. L'Italia appunto si caratterizza per avere una popolazione mediamente molto longeva. L'aspettativa di vita, attualmente siamo di 80,1 anni per gli uomini, 84,7 per le donne nel 2021. E abbiamo una quota di over 65 tra le più alte al mondo. Nel 2020 erano circa 14 milioni, 23,3% del totale. E nel 2040 si stima che gli over 65 raggiungano 33, quindi uno su tre sarà over 65. Ripeto, per me è una conquista, nel senso abbiamo un'aspettativa di vita migliore. Fortunatamente abbiamo anche mediamente, statisticamente, una salute migliore. Si tratta però di equilibrare con quelle che possono essere delle controindicazioni di tipo socio-economico, diciamo così. Per cui i relatori che ci sono qui stasera sapranno sicuramente illuminarci un po' su quello che può essere il futuro e su come sfruttare e rendere un'opportunità questa conquista. Perché se ne avessimo parlato cento anni fa, adesso dobbiamo parlare di conquista. Io comincerei con il professor Rosina che ha studiato molto il fenomeno e appunto per chiedere quali sfide dobbiamo affrontare e vincere per evitare che questo trend finisca col travolgere l'impalcatura sociale ed economica che ha retto finora. Prego. Bene, intanto grazie, buon pomeriggio. Allora, alla base di tutto c'è la transizione demografica e c'è questa sfida che la transizione demografica pone perché la sfida principale è quella che stiamo vivendo adesso rispetto alla quale se daremo le risposte giuste alla fine di questo secolo avremo costruito una società migliore altrimenti rischiamo di peggiorare. Se non la gestiamo bene anche la transizione verde, la transizione digitale rischia di essere compromesse da squilibri demografici che diventano eccessivi. Però il punto di partenza viene da lontano ed è appunto il fatto che noi abbiamo come umanità conquistato qualcosa che è stato sempre sognato dalle generazioni precedenti e che noi abbiamo realizzato, cioè quello di sconfiggere la morte prematura. Ecco, c'è raggiunto la professoressa Mortari che saluta. Buonasera. Abbiamo sconfitto la morte prematura perché nel passato era del tutto normale avere tanti figli ma meno della metà arrivavano all'età stessa dei genitori. C'era una mortalità infantile altissima e comunque i rischi di morte continuavano in tutte le fasi successivi della vita. Solo un terzo dei nati arrivava a 65 anni. E quindi gli anziani erano pochi, erano il 5% della popolazione. Quindi tanti giovani, pochi anziani ma appunto con questa situazione di alti rischi di morte in tutte le fasi della vita. Questa sfida l'abbiamo vinta. tant'è che adesso il 90% della popolazione arriva a 65 anni. Cioè diventa la normalità nascere e attraversare, di fatto in columi, tranne fortunatamente rare eccezioni, tutte le fasi della vita fino all'entrata nell'età tradizionalmente anziane e andare anche oltre. Quindi questo è un aspetto che dobbiamo considerare positivo. Cioè la longevità di per sé va considerata un'opportunità. L'altro aspetto che si lega alla transizione demografica è che quel numero di figli in media per donna, che è appunto la trasformazione che riguarda la fecondità, la natalità, che era molto elevato nelle società del passato, perché appunto tanti figli, in risposta anche all'elevata mortalità, dato che i figli che nascono arrivano tranquillamente all'età dei genitori e vanno oltre, non è più necessario avere 5 o 6 figli perché a livello sistemico ci sia un adeguato ricambio generazionale. Basta averne due in media e questi due arrivano all'età stessa dei genitori nelle società moderne avanzate, compreso il nostro paese, ma è l'auspicio che in tutto il mondo sostanzialmente un bambino che nasce, ovunque nasca nel pianeta, abbia la possibilità di arrivare tranquillamente all'età dei genitori e oltre e quindi anche la fecondità, arrivare a passare dall'alta quantità del passato a un investimento qualitativo sulle nuove generazioni, perché questo è il grande cambiamento che la transizione demografica pone. Ma questo cambiamento poi produce una trasformazione anche strutturale della popolazione in sé, cioè di com'è strutturata appunto, di com'è composta nel rapporto tra generazioni. E questo, a un certo punto, questa riduzione progressiva della natalità a fronte della popolazione anziana che cresce, porta a un grande cambiamento che diventa una sfida anche dal punto di vista sociale ed economico. Allora, per avere un'idea del fatto che noi siamo esattamente nel pieno di questa grande trasformazione, grande cambiamento, che diventa una sfida anche su come dobbiamo ripensare le basi della capacità di generare sviluppo, crescita e benessere. Questo è un slide, un grafico che è abbastanza illustrativo da questo punto di vista. Queste curve rappresentano la percentuale di popolazione in età lavorativa. Quando questa percentuale è elevata si parla di dividendo demografico, che è l'aspetto positivo della transizione demografica, cioè il momento in cui nel processo di transizione la diminuzione delle nascite non ha ancora intaccato la popolazione in età attiva e quindi la popolazione in età attiva è ancora particolarmente consistente. E qui questo grafico fa vedere gli ultimi decenni nelle curve continue e le proiezioni future nella parte tratteggiata. E quello che si vede è che la curva Bordeaux, che rappresenta quindi la popolazione in età lavorativa, quella che produce ricchezza, sviluppo, che rende sostenibile il sistema di welfare, finora è stata particolarmente rilevante soprattutto nei paesi occidentali, che è appunto la curva Bordeaux rappresenta l'Europa e il Nord America. Quindi noi abbiamo avuto un vantaggio competitivo finora, cioè la parte più produttiva della popolazione, quella che maggiormente sostiene l'economia e lo stato sociale, è stata più consistente rispetto a altre aree del mondo, perché la transizione demografica in una prima fase va appunto a rendere solida questa parte centrale. L'Italia finora ha goduto di questo dividendo demografico perché finora, fino a qualche anno fa, al centro della vita attiva del paese c'erano le generazioni particolarmente consistenti, nate negli anni 50, 60 e prima metà degli anni 70. Quindi nonostante le difficoltà, le incertezze e in qualche modo le contraddizioni del nostro sistema di sviluppo, noi finora abbiamo avuto al centro della vita attiva generazioni particolarmente solide e consistenti, quindi l'asse portante del paese è stato finora particolarmente solido. Da qui in poi non sarà più così, non sarà più così nei paesi occidentali, perché vedete che la curva Bordeaux va non solo a diminuire, cioè iniziamo la fase in cui la popolazione in età attiva va a ridursi, perdiamo quindi il primato rispetto anche al confronto con gli altri paesi, ma andiamo progressivamente a posizionarci nei valori più bassi al mondo. Ma sembra quasi, e l'interrompo un secondo, che l'Europa e il Nord America a un certo punto hanno vinto la partita, nel momento in cui hanno vinto la partita hanno cominciato a calare, quindi quasi che il benessere, l'obiettivo raggiunto abbia influito anche sulla... Non è solo il benessere, qui è proprio il fatto che, siccome la transizione demografica è partita prima in Europa e nei paesi occidentali, la natalità è scesa prima in quella parte del mondo, la parte del mondo in cui noi viviamo, e quindi stanno entrando in età attiva le generazioni nate quando il calo della natalità è stato particolarmente consistente. Per l'Italia il crollo della natalità è diventato particolarmente rilevante dalla seconda metà degli anni 70 in poi. siamo scesi sotto i due figli per donna e da oltre 40 anni siamo sotto 1,5 figli per donna. Quindi se il livello di equilibrio nella fase più avanzata della transizione demografica è quello dei due figli per donna in media, noi da 40 anni siamo molto più vicini a uno che a due, che vuol dire che le nuove generazioni sono progressivamente sempre di meno rispetto alle generazioni precedenti. Ora, questo riguarda tutto il mondo occidentale, cioè come noi sappiamo come funziona una società e un'economia basata su tanti giovani, perché è quello che abbiamo sempre fatto, per tutta la storia dell'umanità abbiamo fatto funzionare la società e l'economia avendo abbondanza di nuove generazioni, abbondanza di giovani. Ecco, questa base su cui abbiamo fondato una società e un'economia che conosciamo come funziona non ci sarà più e adesso dobbiamo quindi capire come organizzare una società e un'economia che avrà sempre meno giovani e sempre più persone invece in età matura. Però anche all'interno del mondo occidentale, e qui sta il secondo grafico che voglio farvi vedere, la situazione è abbastanza diversa. E qui avete i vari paesi europei e vi ho incorniciato tre casi. Uno è la Svezia, che è quella in qualche modo che trovate guardando sulla destra, sulla vostra destra, sulla mia e sulla vostra destra, è la parte incorniciata, sulla destra, poi al centro c'è la Germania e sulla sinistra incorniciato trovate l'Italia. E lì ci sono tre punti temporali sull'indicatore guardato con più preoccupazione e attenzione dalle società mature e avanzate, che è l'indice di dipendenza degli anziani. L'indice di dipendenza degli anziani è importante perché è un confronto quantitativo tra generazioni. Noi dobbiamo sempre guardare il confronto tra generazioni se vogliamo capire dove stiamo andando, che cosa funziona e che cosa non funziona. Il confronto e il rapporto tra generazioni. Perché al centro del cambiamento, che funziona o che non funziona, sta come noi interpretiamo e facciamo funzionare il rinnovo generazionale, il rapporto tra generazioni. Bene, questo indicatore ha al numeratore la popolazione over 65 e al denominatore quello che c'era nel grafico precedente, cioè la popolazione in età attiva. Finora questo indicatore è peggiorato, quindi è andato a crescere, perché è aumentato il numeratore. Viviamo sempre più a lungo, aumenta la popolazione anziana. In Italia gli over 65 hanno l'8% nel 1951, il primo censimento del secondo dopoguerra, adesso sono il 24%. Quindi questo ha fatto progressivamente aumentare il numeratore. Ma il denominatore finora era rimasto solido, cioè la popolazione in età attiva era rimasta solida. Da qui in poi, quello che farà la differenza non sarà più il numeratore che continuerà a crescere, ma come è cresciuto finora. Quello che fa la differenza, rispetto al quale noi dobbiamo capire come gestire, rispetto alle trasformazioni in corso, è che andrà ad erodersi, a diminuire progressivamente il denominatore. C'è la popolazione in età attiva, come conseguenza della persistente denatalità. E la differenza fra questi tre paesi, rispetto a questo indicatore, che qui è confrontato su tre punti temporali, 1990, quindi recento e passato, 2019, quindi praticamente oggi, e 2050, e quindi si vede quanto andrà, quando è andato a crescere, e quanto andrà a crescere in futuro, vedete che ci sono situazioni diverse in Europa. La Svezia lo vedrà peggiorare di meno, la Germania, che stava creando squilibri demografici analoghi a quelli dell'Italia, è riuscita ad aggiustare il denominatore, poi capiremo come è riuscita in qualche modo, a fare in modo che non peggiorasse troppo, l'Italia invece semplicemente è andata un po' a subire le trasformazioni in corso, e quindi si trova con questo indicatore, che rappresenta gli squilibri quantitativi nel rapporto tra generazioni, che andrà a peggiorare più degli altri paesi. Però la differenza tra Svezia, Germania e Italia non sta nella longevità. Non è che questo indicatore è peggiore in Italia perché noi viviamo più a lungo rispetto agli altri paesi con cui ci confrontiamo. È analoga. L'aspettativa di vita di Italia e Svezia non sono sostanzialmente diverse. Che cosa fa la differenza? Il denominatore. La sfida delle società mature avanzate è quella di generare benessere trasformando la quantità di anni in più in qualità di vita in più. E questa ce le hanno tutti i paesi. Dovranno affrontarla tutti i paesi in un aspetto positivo. Il problema è che alcuni paesi faranno in modo di gestire la longevità anche come opportunità grazie al fatto che avranno una popolazione in età attiva che non andrà a ridursi troppo e che quindi rimarrà solida. Esempio della Svezia. La Germania in qualche modo è riuscita a evitare squilibri eccessivi l'Italia si troverà in difficoltà perché avrà una longevità che dovrà essere colta come sfida di trasformare la quantità di anni in più in qualità di vita in più ma si troverà a farlo con una popolazione che produce ricchezza che produce sviluppo che genera benessere che fa funzionare finanze al sistema di welfare che andrà progressivamente ad indebolirsi ed è questo che ci mette nei guai. Quindi ci sono due aspetti che dobbiamo avere presente se vogliamo aggiustare la rotta e non trovarci con questi squilibri che vanno a peggiorare progressivamente la capacità di sviluppo di crescita e di benessere del nostro paese. Uno è in difesa e uno è in attacco. L'azione in difesa è gli squilibri quantitativi non dobbiamo lasciarli peggiorare troppo. E per fare in modo di agire adeguatamente in difesa dobbiamo far ridurre troppo il denominatore. Come si fa? Politiche familiari di inversione in tendenza sulla natalità perché se la natalità rimane sui livelli così bassi gli squilibri vanno ad autoalimentarsi. Ogni nuova generazione sarà molto meno rispetto a quella precedente e non riusciremo più a riequilibrare il percorso di equilibrio del paese. L'immigrazione che è un'altra leva su cui possiamo puntare per rafforzare la popolazione al centro della vita attiva nei settori economici che hanno bisogno appunto di immigrati e quindi il denominatore che viene rafforzato tenete presente che queste due risposte in difesa sono quelle che la Germania ha messo in campo per fare in modo di non trovarsi come l'Italia ma di trovarsi in una situazione media europea. Cioè la Germania nel 2006-2007 si trovava con una natalità più bassa rispetto a quella italiana e ha investito fortemente in politiche familiari di sostegno economico alle famiglie con figli ma soprattutto di servizi per l'infanzia di conciliazione tra lavoro e famiglia di opportunità di formazione anche professionale per i giovani di condizioni per formare una propria famiglia ed è riuscita a invertire la tendenza la natalità è andata a crescere mentre quella italiana andava ogni anno a battere il record negativo rispetto all'anno precedente quella tedesca è andata a aumentare in più la Germania ha fatto una forte politica anche di integrazione di formazione dei flussi migratori che ha consentito quindi anche di combinarsi positivamente con le politiche familiari perché hai un effetto immediato dei flussi migratori che se formati bene integri nel sistema produttivo del paese con le politiche familiari consenti alle famiglie anche degli immigrati di contribuire alla natalità e questo ha consentito vedete alla Germania di non avere squilibri così forti come quelli dell'Italia l'altra azione è quella in attacco l'azione in attacco è quella che corrisponde al secondo dividendo demografico il secondo dividendo demografico è le opportunità per rendere più efficiente la popolazione in età attiva da punto di vista qualitativo cioè la formazione le nuove tecnologie le politiche di conciliazione sono tutti fattori che l'investimento in ricerca sviluppo innovazione eccetera sono tutti fattori su cui stanno puntando le economie mature avanzate perché consente alla popolazione in età attiva di essere effettivamente occupata e di essere effettivamente produttiva e di costruire anche le basi di una lunga vita attiva ecco anche su questo però noi siamo più deboli rispetto agli altri paesi non a caso abbiamo la più alta percentuale di NIT di giovani che non studiano e non lavorano e questo è un grosso paradosso perché abbiamo meno giovani rispetto agli altri paesi e più squilibri e in più ne sprechiamo di più perché li trasformiamo in NIT in giovani che non studiano e non lavorano ma se non studiano non lavorano diventano un costo sociale anziché parte attiva di un paese che fornisce ai giovani competenze adeguate per essere partecipativi nel mondo del lavoro ma non consente nemmeno ai giovani di mettere le basi per una lunga vita attiva e costruirsi anche un'età adulta e anche un'età anziana in condizioni adeguate con una storia professionale ma anche di contributi che non li vincoli poi a condizioni di povertà anche in età avanzata grazie questo è un scenario veramente utile per capire dove stiamo mi viene in mente che abbiamo un continente a sud l'Africa che ha la curva opposta nel senso che ha tantissimi giovani e pochi anziani e mi pare quasi l'effetto dei vasi comunicanti un po' di immigrazione bisogna comunque gestirla perché le politiche eventuali per favorire la natalità avranno effetti comunque molto più molto più in là evidentemente però l'aspetto che ricordava di gestire meglio l'età come dire avanzata lavorativa volevo parlare con o di roboti che si occupa proprio anche anche di questo di come far lavorare meglio come magari far cambiare lavoro chi anche in età più avanzata ci eravamo abituati a uscire presto dal lavoro c'è questa idea che tutti vogliono scappare dal lavoro in realtà molto spesso può capitare anzi deve capitare che a una certa età si possa cambiare vita si possa lavorare continuare a lavorare e fornire appunto essere parte della lavorazione attiva forse un po' più in là come si fa? grazie buon pomeriggio a tutti parto da una constatazione la nostra società è diventata paradossalmente giovanilista proprio nell'era della longevità e questo c'entra nella conversazione perché quando si parla di consentire a delle persone diciamo nella seconda metà della loro vita di continuare a contribuire si incappa in una serie di pregiudizi molto forti molto radicati i pregiudizi riguardo all'età sono tra i più forti e questi pregiudizi diciamo che affondano le radici in una visione declinista per cui la vita diciamo a un certo punto inizia a declinare e questo declino non si riesce a contrastarlo e questo porta anche a un costrutto dell'invecchiamento che è troppo vecchio rispetto alla longevità e che non ci fa vedere che gli anni della longevità non si sono aggiunti in fondo alla vita delle persone ma si sono aggiunti creando uno stadio intermedio tra l'età adulta e l'età anziana non so se diciamo si sia chiaro come questo cambiamento di prospettiva sia nell'autopercezione delle persone sia nella percezione degli altri possa fare la differenza però effettivamente è importante perché appunto le persone che vogliono ricominciare magari cambiare lavoro questo può avvenire per esempio perché oramai molti settori a causa della famosa disruption tanto citata hanno cambiato business model e quindi hanno dovuto diciamo alleggerirsi molto della loro forza lavoro e hanno riversato delle persone ancora assolutamente in grado di lavorare così nel novero dei disoccupati ecco queste persone se hanno più di 50 anni fanno molta fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro e questo appunto perché ci sono sia dei pregiudizi che queste persone hanno assorbito nell'ambiente circostante e che diventano un limite autopercepito un'autolimitazione sia sono un pregiudizio diciamo da parte di chi li dovrebbe impiegare dal punto di vista delle persone quindi una competenza chiave del ventunesimo secolo sarà la capacità di ricominciare questo perché appunto il tasso di cambiamento è tale per cui non si può pensare più che le persone avranno un'unica carriera faranno la stessa cosa tutta la vita questo oramai diciamo su questo i futurologi sono abbastanza tutti d'accordo e anche non sarà più come una volta che qui c'erano dei cambiamenti a cui uno si poteva adattare qui stiamo pensando a un futuro in cui le persone effettivamente dovranno ricominciare fare cose completamente diverse e quindi ricominciare e essere principianti e questo sarà fondamentale competenza fondamentale dalla quale non escluderei le persone nella seconda metà della loro vita ma su questa fascia di età ci sono una serie di pregiudizi e di miti di false credenze a partire dal fatto che uno o si è realizzato entro i 50 anni oppure diciamo papa o sacrestano e i 50 anni sarebbero diciamo uno spartiacque fondamentale ci sono un sacco di semplificazioni riguardo all'intelligenza per cui si dice sempre l'intelligenza cala un certo tipo di intelligenza l'intelligenza fluida cala dopo i 20 anni ma ci sono altre forme di intelligenza come l'intelligenza cristallizzata basata sulla conoscenza sull'esperienza che invece ha un picco molto più tardivo sui 60 anche 70 anni la formazione a quell'età può servire può diciamo aggiungere competenze diciamo perfezionare le conoscenze attraverso un percorso formativo anche in quell'età assolutamente sì infatti non è vero che uno non apprenda più oltre una certa età questo sappiamo che è falso sappiamo anche che però rischia di essere una profezia che si autoavvera perché se la persona è convinta di non poter più apprendere cose sostanzialmente nuove che saranno invece quelle che servono per ricominciare non non si cimente in queste cose diciamo si autoesclude poi si atrofizza anche un po' la capacità di imparare cose nuove quindi sicuramente la formazione che non sarà più come era nella vita trifase in cui avevamo una prima parte della vita in cui le persone si formavano una seconda parte della vita in cui le persone producevano lavoravano e una terza fase in cui si riposavano sostanzialmente la vita trifase oramai è un'idea superata la vita sarà multifase e le persone entreranno e usciranno dall'istruzione dalla formazione proprio per rispondere a dei cambiamenti dell'ambiente quindi esogeni rispetto a loro alle loro scelte che imporranno di ricominciare di rimparare cose nuove e appunto nessuno ha detto che c'è un età limite per imparare cose nuove anche se questo è uno dei pregiudizi che ci sono insomma quindi Giuliana Coccia non è vero che tutti vogliono andare in pensione subito ci si sta anzi con la fame di lavoro che c'è vi racconto che nelle imprese venete c'è le forti richieste di lavoro non sempre anzi quasi mai ultimamente diciamo viene colmata quindi chiedevo a Giuliana Coccia partendo da questo che offerta di lavoro ci può essere per l'età più avanzata perché so che ha fatto alcuni dati molto interessanti per quel che riguarda diciamo questo nuovo mercato del lavoro che pensavamo fosse come dire destinato invece alla pensione mentre a certa età ci sono nuovi contratti che possono essere molto appetibili e quindi ricominciare come diceva prima a Robotti o dire Robotti sì in base ai due relatori che mi hanno preceduto abbiamo capito gli effetti dell'invecchiamento e ovviamente questi hanno avuto un impatto decisamente importante sulle forze di lavoro quando parlo di forze di lavoro intendo gli occupati e in cerca di occupazione perché troppo spesso parliamo solo di occupati ma l'offerta qual è? oggi abbiamo 23 milioni di occupati 9 milioni dei quali hanno più di 50 anni e 700 mila che ne hanno più di 65 la crescita degli occupati che c'è stata negli ultimi 15 anni non è stata uniforme ma ha visto calare il contingente dei giovani fino a 34 anni e aumentare quelli degli over 50 mentre la fascia centrale è rimasta più o meno stabile chi sono questi lavori senior? sono per in gran parte lavoratori con il contratto a tempo indeterminato che si concentrano in alcuni settori economici pubblica amministrazione istruzione sanità servizi alle famiglie tutti i settori in cui c'è domanda di lavoro ancora e quello a cui ha accennato lei adesso ho parlato di stock ma qual è il flusso di lavoro? su 12 milioni di contratti di lavoro attivati ogni anno questi sono dei dati desumibili dal sistema delle comunicazioni obbligatorie del ministero del lavoro ben un milione e otto riguardano gli over 55 attenzione però questo un milione e otto di contratti coinvolge un milione di lavoratori over 55 che cosa significa? che si tratta di contratti a tempo determinato brevi e che quindi ogni lavoratore ha quasi due attivazioni ogni anno sono quasi tutti i contratti a tempo determinato ma per gli over 65 sono contratti di collaborazione che significa questo? che le persone anche se hanno i requisiti pensionistici continuano a lavorare non stiamo parlando soltanto di professioni con alti gradi di specializzazione ma faccio un esempio per tutti l'agricoltura difficilissimo che un agricoltore si fermi a 65 anni perché non lo fa ma vogliamo parlare anche perché ha problemi economici perché nel corso della vita ha svolto un lavoro tra virgolette economicamente povero non ha sufficienti risorse pensionistiche questo potrebbe essere una delle cause importanti il secondo punto e ne ha accellato il professor Rosina prima che abbiamo una fascia di giovani che non riesce a entrare nel mercato del lavoro si scoraggia e rimane fuori e quindi spesso queste persone devono contribuire al mantenimento delle persone più giovani l'invecchiamento però che cosa fa nel lavoratore fa esprimere dei bisogni diversi sicuramente perché se i giovani hanno le necessità di accudire ai figli pochi per quanti ce ne siano i lavoratori senior hanno la cura dei grandi anziani e quindi hanno bisogno di maggiore flessibilità del lavoro l'altro discorso che la longevità porta comunque il venire fuori delle malattie più o meno croniche e da questo punto di vista c'è l'osservatorio dell'INE che si chiama MALPROF le malattie professionali che ha visto come queste malattie siano aumentate di oltre 15 punti percentuali negli ultimi vent'anni perché è importante questo sistema è importante perché serve a far capire quale sono le professioni che hanno maggior rischio e non hanno bisogno di una maggiore sorveglianza ma soprattutto che cosa fare per prevenire queste malattie per aiutare i lavoratori allora il lavoratore senior oggi non è il lavoratore affidabile che non crea troppi problemi ma che è un po' a margine poco produttivo non è più così il nostro paese è fatto dal 90% di imprese piccolissime in cui l'esperienza e la conoscenza sono una cosa fondamentale se noi guardiamo al futuro non possiamo pensare a uno sviluppo di queste aziende senza uno scambio intergenerazionale perché intergenerazionale scusate perché solo affiancando l'espertise dei senior con quelli dei nuovi giovani si può portare avanti un discorso di produttività che cosa fanno oggi molte aziende invece tendano ad aiutare gli scivoli l'uscita attiva per ridurre il costo corrente del lavoro ed investire sui giovani ma si trovano poi su un gap di competenze però le piccole imprese fanno più fatica perché appunto molto spesso si basano sulla professionalità di un lavoratore che è rimasto di tanto e di solito dovrebbero invece cercare di accoppiare con qualche giovane in modo di tramandare di riuscire a fare questo scambio dovremmo fare questa cosa in realtà nel nostro ordinamento l'apprendistato serviva a questo poi abbiamo visto che in realtà molti contratti di apprendistato non vengono utilizzati per questo trasferimento di competenze ma vengono utilizzati più per lo sgravio fiscale che danno al datore di lavoro che non per gli obiettivi futuri insomma dobbiamo capire che oggi decidiamo il futuro e quindi dobbiamo avere questo sguardo lungo nel tempo Sessa Mortari c'è un problema anche per i giovani perché vivere in una società appunto sempre più orientata all'anziano quindi un giovane anche che entra nel lavoro con molta più difficoltà di una volta dal punto di vista anche dei contratti perché quindi il rapporto a favore degli anziani come numero cosa comporta per i giovani come si può gestire diciamo il loro ingresso nel mondo del lavoro e nella vita attiva è un problema che richiederebbe un'attenzione maggiore e una come dire una sorta di cambiamento paradigmatico della politica che la politica che è il pensiero che sovraintende l'organizzazione della vita pubblica è sempre stata costruita nella nostra cultura occidentale sul principio di giustizia e sul principio del pensare degli esseri umani come essere autonomi responsabili capaci di gestirsi questo è il principio fondamentale il giovane che entra nel lavoro non è ancora completamente autonomo capace di gestirsi e gli anziani che stanno per andare dal mondo del lavoro sono quelli che non sono più nelle condizioni di essere come dire nello stato di autonomia quindi la politica pensa sulla base di una rappresentazione della condizione umana che non è quella reale che cosa non penso soprattutto rispetto ai giovani non pensa la capacità di coltivare tutte le loro potenzialità perché in questo momento in cui è dominare il pensiero neoliberista quando noi pensiamo la formazione pensiamo la formazione dei giovani come preparazione al mondo del lavoro questo è il modo in cui noi pensiamo alla formazione e quindi abbiamo un approccio molto tecnicistico per la coltivazione delle loro competenze non si pensa invece che l'essere umano dalla formazione come secondo il concetto tedesco della Bildung avrebbe bisogno di essere coltivato in tutte le sue potenzialità quindi non c'è quella preparazione dei giovani ad affrontare la vita non solo per la vita così come è data così come è già strutturata ma per immaginare un futuro che sia diverso da quello che è quindi noi li prepariamo ad entrare in un mondo stabilito non li prepariamo all'immaginazione per il futuro li prepariamo a un pensiero fondamentalmente ricognitivo e non un pensiero immaginativo non un pensiero creativo perché è molto più difficile pensare in questa direzione non pensa poi una domanda che ho fatto anche ieri un'altra cosa ma che nei giovani nel corso 50 anni fa 60 anni fa sia anche cambiata il posto in classifica che danno al lavoro nel senso io credo che in passato il lavoro era il primo posto appunto quella era la realizzazione il giovane di oggi non c'è solo il lavoro giustamente dice mi devo realizzare anche diciamo là un po' non dico abbassato però non è proprio la priorità principale quindi anche il tempo da dedicare al lavoro le ore da dedicare al lavoro quindi che sia un po' cambiata la concezione del lavoro e quindi che anche le imprese che chiedono lavoro dovrebbero un attimo fare un po' più di tra virgolette marketing di se stesse e renderlo appetibile per convincere i giovani che si tratta di un modo di realizzarsi nella vita da quello che pensano i giovani ne abbiamo una conoscenza abbastanza episodica da Peccio non abbiamo coltivato una cultura che sappia interpellare i giovani parliamo per loro ma non li avviciniamo per sentire che cosa pensano questo mai c'è una da quando è stata emanata la dichiarazione dei diritti del fanciullo 1989 si è sviluppata una cultura del dare voce dare voce ai vari settori della cultura alle varie forme di vita che ci sono in realtà non lo facciamo mai parliamo sempre per gli altri adesso siamo molto più consapevoli del fatto che gli uomini parlano per le donne però non pensiamo che spesso ne parliamo per i giovani noi parliamo per i bambini noi parliamo per gli anziani non li andiamo ad interpellare e il modo in cui la sapienza se possiamo usare questo termine interpella le fasce della popolazione oggi è attraverso un modo troppo prestrutturato non li lasciamo parlare a partire da sé come dicono gli illuministi e quindi non possiamo sapere quello di cui in realtà i giovani hanno bisogno in questo momento c'è un grande disagio una grande forma di incertezza però ci sono anche delle forme di come si sa di progettualità interna dei giovani che noi non cogliamo perché non li andiamo ad ascoltare se ci fermiamo nelle aule universitarie anziché entrare subito e cominciare a fare lezioni avessimo più tempo di parlare con loro troveremmo forse un'interpretazione diversa della vita da quella che noi ci rappresentiamo non c'è il tempo dell'ascolto la nostra cultura è una cultura che non è il tempo dell'ascolto perché è una cultura molto frenetica costruita sulla sull'efficienza mentre il giovane per costruire la sua vita avrebbe bisogno di vedere un tempo più flessibile e meno costruito sull'efficienza e sull'affermazione di sé quello che noi chiediamo ai giovani non è quello che forse loro vorrebbero pensare per se stessi appunto perché siamo dentro una cultura troppo costruita questo fenomeno adesso mi fa pensare alla sua domanda sull'ultima riflessione questo fenomeno recente dei ragazzi che si chiudono nelle loro case nelle loro stanze non è abbastanza studiato ma questo è come dire l'esternalizzazione più potente di arritrarsi dal mondo però ci può essere anche un arritrarsi come dire contemporaneo alla presenza di cui noi non ce ne rendiamo conto e che fa sì che noi non mettiamo i giovani nelle condizioni di realizzare tutte le loro potenzialità anche perché in questi ultimi anni abbiamo assistito a diverse rivoluzioni tecnologiche che hanno anche cambiato diciamo il modo di essere giovani e anche il nostro modo di rapportarsi con lo smartphone mi viene in mente perché cambia molto tornando al professor se posso su questo argomento poi magari farei anche una domanda ulteriore noi dobbiamo anche pensare che c'è un modello diverso sociale di sviluppo che dobbiamo costruire con le nuove generazioni se noi pensiamo che il modello del novecento quello della crescita quantitativa andava bene tutto quello che cresceva dal punto di vista quantitativo quindi prodotto interno lordo bene popolazione anni di vita quantità di anni di vita consumi produzione consumo eccetera se adesso parliamo di sviluppo sostenibile vuol dire che vogliamo un modello diverso che più che sulla quantità investa sulla qualità cioè misurarla la qualità è più difficilmente misurabile ma questa sensibilità i giovani l'hanno introiettata se noi pensiamo che lo sviluppo non sia solo quantità di produzione e consumo e non sia solo prodotto interno lordo se i giovani lo introiettano vuol dire che a partire dalla loro idea di lavoro non è solo reddito non è solo salario e non è solo ore di lavoro e non è solo produzione e competenze tecniche che porto ma è qualcosa di più ed è produzione di valore è qualcosa invece che ti consente di mettere in campo non solo le tue capacità tecniche ma anche le tue sensibilità porti quello che tu sei all'interno del lavoro e porti la tua vita quello che desideri che il mondo cambi con te con l'attività che tu fai ed è questo che noi dobbiamo incoraggiare i giovani a essere se noi continuiamo a pensare ma i giovani non si adattano alle aspettative di come dovrebbero essere all'interno del mondo del lavoro e lo stiamo interpretando con categorie novecentesche è il nostro sguardo che è sbagliato non quello che i giovani stanno cercando di sperimentare e quello che chiedono nel modo in cui vogliono essere attivi nel mondo che cambia e in cui vogliono produrre il loro impegno positivo faccio una breve domanda relativa ai numeri che mi hanno impressionato ai trend che avevi illustrato prima che appunto rendono praticamente necessaria un certo tipo di immigrazione almeno nel breve periodo per sostenere per rendere economicamente e socialmente sostenibile la bilancia ecco la Germania è un esempio di gestione di immigrazione di un certo tipo ecco l'Italia per cercare di sovvertire un po' o comunque equilibrare questo trend come bisognerebbe comportarsi in particolare con l'immigrazione perché questo è un tema caldo un tema caldo che in realtà è un tema matematico mi viene da dire più che un tema cioè è in beh da questo punto di vista noi abbiamo squilibri molto più accentuati rispetto ai paesi con cui ci confrontiamo noi parliamo di invecchiamento ma come facciamo vedere dei dati la questione vera del nostro tempo cioè di questi dei decenni che stanno arrivando e delle sfide che il cambiamento demografico pone ancora più accentuata rispetto in Italia non è l'imbecchiamento della popolazione è il degiovanimento e il fatto che noi dobbiamo utilizzare un termine nuovo un neologismo fa capire come questa sia una questione completamente nuova ho cercato di dirlo prima cioè noi veniamo da un mondo in cui i giovani erano una risorsa abbondante e lo erano anche quando noi abbiamo messo le basi della ricostruzione del paese dopo il trauma della seconda guerra mondiale noi abbiamo messo le basi del miracolo economico nel 1951 il primo censimento del del secondo dopoguerra vedeva in Italia oltre la metà di persone aveva meno di 30 anni adesso sono il 27% questo fa capire questa grande trasformazione che che è il vero elemento che sta cambiando le condizioni di base per costruire una popolazione che funzioni quindi il degiovanimento è questa progressiva riduzione della presenza quantitativa delle nuove generazioni nella popolazione nella società e nell'economia e se noi non la poniamo al centro non capiamo quello che sta succedendo se noi continuiamo a parlare semplicemente di invecchiamento della popolazione la tensione anche delle politiche si sposta a capire bene che cosa facciamo adesso con il fatto che abbiamo sempre più anziani e non ci chiediamo invece la questione principale cioè che cosa facciamo del fatto che abbiamo sempre meno giovani e allora le risposte sono ma se si riducono dal punto di vista quantitativo e noi vogliamo che funzioni il rinnovo generazionale la capacità di dare carburante energia a un paese che continua a guardare positivamente il proprio futuro dobbiamo da un lato fare in modo che non si riducano troppo e vabbè le politiche sulla natalità familiare eccetera che da noi sono da sempre molto più fragili rispetto agli altri paesi ma dall'altro compensare la riduzione quantitativa con un potenziamento qualitativo e questo vuol dire appunto mettere i giovani nelle condizioni di formarsi bene di inserirsi bene nel mondo del lavoro e di essere adeguatamente valorizzati il fatto che noi abbiamo la più alta percentuale di giovani che non studiano e non lavorano dice che sulla transizione scuola lavoro noi ne perdiamo troppi di questi giovani il rischio è che non portino solo al centro della vita attiva del paese non portino solo la loro debolezza demografica ma anche la debolezza dei propri percorsi professionali e formativi ma anche se noi riducessimo comunque la percentuale di NIT e la portassimo verso la media europea o anche verso i paesi con una percentuale più bassa non sarebbe comunque sufficiente perché i dati ci dicono che gli attuali trentenni sono un terzo in meno rispetto agli attuali cinquantenni che vuol dire che proiettando nei prossimi vent'anni vuol dire che rischiamo una riduzione della forza lavoro potenziale di circa un terzo cioè questa cosa non si risolve né da solo aumentando l'occupazione giovanile né da solo aumentando l'occupazione femminile né consentendo alle persone di lavorare più a lungo né invertendo la tendenza sulla natalità ma con tutte queste leve assieme compresa quella dell'immigrazione perché l'immigrazione come ho detto consente già da subito di rafforzare molti settori che rischiano di essere in crisi per carenza di mano d'opera ma dall'altro l'immigrazione consente anche di partecipare al modello di sviluppo sociale del paese se non è intesa come emergenza come braccia che arrivano ma come parte integrante di un progetto paese che si dà più solidità e una prospettiva migliore di crescita e di sviluppo bisognerebbe rendere questo paese anche attrattivo infatti il messaggio che dà la Germania il messaggio che dà la Germania è non solo l'aumento quantitativo dei flussi ma anche il forte investimento non solo sull'integrazione ma sulla formazione cioè questo è messo proprio nel punto centrale cioè l'immigrazione funziona se le persone che arrivano sono messe nella condizione di avere opportunità adeguate con formazione adeguata per essere parte attiva dei processi di sviluppo di crescita e di quello che serve al territorio per crescere con loro anche perché ci sarà una competizione tra paesi come attrattività perché molto spesso andare in Germania è più attrattivo che venire da noi tanto è vero che anche molti giovani italiani guardano altrove perché appunto trovano delle condizioni bisognerà pensare a livello diciamo di politico di attrazione proprio perché è una necessità cercare di rarmi l'altra questione è l'Italia è il centro del Mediterraneo cioè è il punto allora qui i cambiamenti demografici vanno letti soprattutto rispetto alle dinamiche differenziate cioè questa è la sfida che la demografia pone le dinamiche differenziate popolazione anziana che cresce popolazione giovane che diminuisce e questa è una questione di cui dobbiamo occuparci alcune aree del mondo che crescono dal punto di vista demografico in maniera esuberante Africa e alcune aree del mondo che diminuiscono l'Europa ma queste due dimensioni sono anche intrecciate cioè Africa che cresce e che ha tanti giovani Europa e l'Italia che diminuisce dal punto di vista demografico e in cui i anziani aumentano e soprattutto i giovani diminuiscono ora se non si trova una sintesi al centro di queste due dimensioni e geograficamente vuol dire l'Italia che è al centro del Mediterraneo e al centro di questi cambiamenti beh queste grandi forti forze di cambiamento le subiamo anziché di gestirle positivamente quindi noi abbiamo esigenza l'Italia proprio più del resto d'Europa la necessità di poter fare in modo che queste dinamiche differenziate trovino la possibilità di una soluzione positiva noi abbiamo bisogno di giovani abbiamo bisogno di rispondere agli squilibri demografici ma abbiamo bisogno soprattutto di investire sul capitale umano che consente poi al paese di essere più solido rispetto alle sfide che ha davanti e rispetto a tutto quello che abbiamo detto che sono gli elementi che pongono le sfide principali del nostro tempo hanno bisogno proprio di una visione ben mirata nuova e di politiche adeguate la longevità è un'opportunità ma se tu fai le politiche giuste l'immigrazione è un'opportunità ma se tu la gestisci in maniera adeguata hai punti sulla formazione di chi arriva le nuove tecnologie sono un'opportunità ma se diventano a servizio delle nuove generazioni o comunque anche di chi entra nel mondo del lavoro e diventa un ausilio per poter lavorare ancora meglio in condizioni di sicurezza e con opportunità ecco quindi sono grandi trasformazioni che condizioneranno fortemente il futuro che stiamo costruendo e dà la capacità di gestirle in maniera anche integrata dipenderà dalla qualità di quello che saremo nei prossimi anni a Odile Roboti volevo chiedere invece quando si va in pensione nel senso che c'è una popolazione di pensionati in crescita proprio per il trend che abbiamo visto ma appunto in pensione si è attivi si è ancora molto attivi c'è ancora la voglia dicevo io prima di sentirsi utili in qualche modo ecco dico come si può organizzare diciamo il post lavoro in maniera produttiva nel senso ha capito quello che intendo nel senso proprio della sociale e personale anche sentirsi utili alla società certo allora collegato al discorso che facevo prima della società giovanilista costrutto dell'invecchiamento vecchio anche la concezione della pensione non è molto cambiata e non si è adeguata all'era della longevità quindi abbiamo ancora un modello prevalente di pensione ricreazione quindi è suonata la campanella adesso puoi finalmente fare quello che vuoi mentre il modello virtuoso sarebbe una pensione ricreazione dove le persone si reinventano e questa reinvenzione può andare in tutte le direzioni possibili quelle che io personalmente incoraggio perché credo renderebbero la longevità sostenibile più sostenibile sono quelle in cui le persone continuano o a lavorare o diciamo a fare qualche cosa di pro sociale pro sociale quindi per esempio volontariato dove in Italia meno del 30% dei pensionati fanno volontariato che non è un numero basso ma per quale ragione non sia 50 o 70 potrebbe potrebbe salire questo tra l'altro insomma li porrebbe non più come sono visti ora come prenditori netti all'interno della società quindi che danno molto meno di quello che prendono ma potrebbero continuare a contribuire e tra l'altro con dei benefici anche individuali non solo con degli ovvi benefici sociali perché la pensione nuoce alla salute un sacco di studi dicono che le persone nei due anni che seguono il pensionamento hanno più problemi di tipo fisico di tipo psicologico e cosa c'è dietro a questo c'è una perdita di identità che molti hanno nel momento in cui vanno in pensione perdita di connessioni sociali e perdita di significato cioè il lavoro magari in certi momenti lo detestiamo però dà un significato e quindi diciamo per avviare questo ripensamento della pensione le persone dovrebbero rifletterci di più cioè così come si fa l'orientamento ai giovani che finiscono il liceo e che finiscono l'università non vedo perché non dovremmo fare un orientamento alle persone che stanno per andare in pensione questo attualmente è fatto su piccoli numeri per cui io mi occupo di career coaching che è una branca del coaching che proprio scusate di retirement coaching che all'interno del career coaching è quello che cosa puoi fare in pensione per essere attivo ma questo è diciamo va su piccoli numeri mentre sarebbe molto interessante se le aziende iniziassero a fare queste conversazioni guidate da chi si occupa di questi temi con le loro persone nella finestra che precede il pensionamento per iniziare a fare delle riflessioni strutturate che permettano a ciascuno di scegliere un progetto altra parola la progettualità che di solito non è associata con la pensione e anche questo secondo me è un limite ma ha la percezione che c'è ancora la corsa alla pensione perché facciamo battaglie politiche per andare in pensione prima a livello di società c'è veramente questa voglia di andare in pensione subito oppure qualcuno poi una volta in pensione si accorge che un altro paio d'anni al lavoro forse mi avrebbero semplificato la vita allora dipende dal lavoro dipende da tantissime cose quello che è vero è quello che diceva lei cioè ci sono delle persone che non vedono l'ora di andare in pensione e poi dopo due mesi che sono in pensione quando hanno fatto tutte le cose che erano nella loro lista vanno in depressione questo è un fenomeno depressione tra virgolette non necessariamente clinica è per fortuna però insomma che hanno un tono dell'umore basso che sono insoddisfatte eccetera quindi anche chi l'ha desiderata se non si è organizzato bene non sempre ne trae una grande soddisfazione statisticamente parlando Giuliana Coccia come siamo messi da questo punto di vista visto che ha dei dati sotto mano attraverso la statistica sono affascinato dalla statistica per cui Giuliana Coccia che ha dedicato una buona parte della vita a questi numeri riesce forse a darci un quadro anche i numeri non sono così freddi dai numeri si riesce a capire qualcosa ma riallacciandomi a quanto appena detto Odile io direi che non bisogna lasciarsi andare nel momento in cui finisce l'impegno a tempo pieno lavorativo perché poi parliamo anche di questo in Italia siamo stati molto bravi a dilatare i tempi di lavoro e quando parliamo di flessibilità di orari o di lavoro agile abbiamo previsto per le donne con bambini piccoli ma non abbiamo mai preso in considerazione i lavoratori senior questo potrebbe aiutare d'altro canto mi rendo conto che non abbiamo servizi che aiutino l'anziano nel taglio delle attività dei comuni sono stati tagliati tutti i servizi di aggregazione degli anziani che una volta erano molto diffusi adesso rimangono soltanto in alcuni settori perché faccio riferimento a questo perché questi servizi erano proprio quelli che consentivano ad alcune persone in buona salute di impegnarsi sul sociale e impegnarsi anche nel contatto con i giovani non dobbiamo vedere queste due categorie in contrapposizione ma dobbiamo trovare il modo di unirle però c'è la tendenza a considerare male l'anziano che vuole continuare a lavorare questa demonizzazione sociale un rubo il posto al giovane in realtà non è così possono convivere le due cose per un accompagnamento dell'entrata del giovane e dell'uscita del signor che poi abituato a collocare con un giovane riesce anche ad impegnarsi sul sociale da altri punti di vista io vorrei mettere però in evidenza anche un'altra cosa quello che riguarda i nostri anziani che è la solitudine infatti l'epidemia di solitudine ci siamo dimenticati di questo piccolo dettaglio che è il titolo del nostro un'indagine europea ci dice che in Italia il 65 degli over 65 il 25% vive da solo delle donne di più di 75 anni il 50% vive da solo quindi lasciare il mondo del lavoro e quindi il contatto con i colleghi seppur confluttuale a volte fa precipitare in un mondo di solitudine dove la famiglia si è molto ridimensionata in termini di numeri molte volte i figli sono lontani chilometri e chilometri e quindi è difficile per una persona da sola trovare le strade per un impiego del proprio tempo in maniera utile da questo punto di vista secondo me gli enti locali dovrebbero lavorare molto e non credo che siano necessari tutti questi fondi per farlo ma più una riorganizzazione torno con la professoressa Mortari a parlare di giovani visto che è anche a con... prego prego mi consento una riflessione perché è molto interessante il punto di vista portare l'attenzione sul problema della solitudine ma non solo noi quando pensiamo agli anziani adesso il tipo di discorso che si è sviluppato qua è sull'anziano che appunto deve o che potrebbe continuare a lavorare o impegnarsi nel mondo del volontariato quindi essere attivo però noi abbiamo una grande quantità di anziani come abbiamo visto e una notevole quantità di anziani che sono in situazioni di grande fragilità e di vulnerabilità e di questo bisogna prenderne atto aumentano le malattie croniche non solo ci sono gli anziani a casa da soli ma ci sono molti più anziani che hanno bisogno delle case di riposo e non abbiamo una cultura che ha fatto crescere le case di riposo in modo che siano luoghi di vita e non luoghi dove si consume il tempo prima dell'evento finale e questo è una cosa che è da pensare perché cerchiamo di dimenticare non mettiamo dalla parte questi che sono gli elementi più problematici dell'esistenza però un po' l'ha messo in evidenza il covid ma già da prima si sapeva questo quindi c'è la fetta di anziani di cui dobbiamo pensare che sono quelli capaci di autogestirsi autonomi ma hanno una grande quantità che non lo è non solo non c'è una cultura del tempo nelle case di riposo dove manca il personale diceva la collega mancano i servizi comuni non forniscono più i servizi però manca il personale che li possa aiutare c'è un modo di pensare il tempo in queste strutture come un tempo che si deve riempire e non un tempo dove coltivare ancora la loro capacità di pensare e la loro capacità di essere non c'è personale che gli aiuti sul piano appunto di una reinvenzione del tempo e poi c'è tutta la questione della possibilità di sostenerli a casa nella loro solitudine ci sono poche esperienze in Italia di ripensamento anche urbanistico per gli anziani come invece c'è a Udine dove c'è una forma di pensiero sulle costruzioni abitative che consentono agli anziani di stare in relazione tra di loro perché la città che è una città pensata ci diceva negli anni passati negli anni 90 è una città per le auto e non per i bambini è una città per le auto non per i bambini e neppure per gli anziani quindi quando diceva abbiamo poco volontariato rispetto al passato gli studi di Patnam questo americano che aveva visto che in Italia c'è una grande potenza di volontariato adesso viene meno ma l'anziano fa fatica a muoversi in una struttura urbanistica come questa questo è quello che abbiamo bisogno di ripensare grazie credo sia stata un'interessante discussione abbiamo capito che la longevità è comunque una conquista e abbiamo anche avuto delle indicazioni dei suggerimenti di cui qualcuno farebbe bene a far tesoro per poterlo trasformare in un'occasione di crescita e di nuova concezione del paese e anche dell'occidente vi viene da dire perché è un problema in particolare che riguarda l'occidente grazie a tutti per la profondità del ragionamento grazie